Buon salve a tutti, sono sempre NotMe e bentornati su Psychonaut! E finalmente anche in italiano, lascio a fare. Guarda Raz com'è felice. Pronto? Devo andare in bagno. Quindi direi che ci facciamo un giretto per il campeggio. Oddio, guarda che grande che è. Che bello. Oh, guarda che si tengono per manina. Ma perché? E infatti... Ma non farlo! Non farlo, chiama la polizia piuttosto. No, dei capelli. È un cappello o sono dei capelli? Ehi. No. Ok. La gente non è affatto normale. Cioè, almeno noi siamo un po'... Oddio, una band! Voglio suonare! Voglio suonare! Dio, se fate schifo! La tv... Cosa danno per tv? Un bellissimo western! Ora, stiamo tutti in seri, va bene? Lascia fare la tv, lascia fare tutto. Ma quanto comode sono queste cose qua? Quanto? Sì? Quanto pare sì? Eh? Ma... Ma... Paparaparapa! Bene! Ci avviciniamo a... Cosa? Doggen? C'è Doggen? C'è Doggen, te lo dico io. C'erano gli scoiattoli. O forse l'orso di cui parlava prima. Oddio! Salve! Cosa è tu? Magari dovresti provare a rinforzare te stesso? C'erano molte altre persone sull'esercizio, besides you. No, no, solo ora. In the woods. No, no. Dev'era stato qualcosa di altro. Non si fai come ponscum. Ma va? Grazie. Sono bravo a fare i complimenti. E chi è? Doggen. Dove sei che piangi? Dove sei che piangi? Ti sento, eh? Ma quello... Ah! Ma è un orso psichico! No, no. Ma non piangermi nelle orecchie mi dà fastidio. Mi dà fastidio? Mi dà tanto fastidio. Addirittura... Che cosa è questa cosa? È un GPC, un geodesic psico-isolation chamber. È un tank di depredazione sensoriale. medico-isolation metafisical hotbox. Quindi entri là dentro. Ok. Mettiamo il bottone. Madonna! Così. Di cattiveria. Con che risata malvagia. Si scende! È un po' disordinato qua, è una mia impressione. Perchè? Che cosa stiamo a imparare? Sponcate le sponcate? Sponcate le cose? Ho sentito molto sull'esplosione. E ho pensato... Science, Rasputin. Questo è quello che facciamo qui. Se sei serio per esplodire le possibilità della tua mente, passate al brain tumbler. Perché? Frullamente? Ho paura adesso. Palle? Però io volevo far esplodere la dente. Che cosa fa questo sottopo di pezzi? Con questo dispositivo, ti sentiamo profondamente in tuo próprio psico. dove dovresti trovare un'esplosione e un'esplosione in parallelo. Eccellente! Tumbole! Ma quindi entro nella mia testa? Questo non farà. Se una cosa davvero molto buona succede. Spero di no. Quindi adesso siamo nella mia testa? Che brutto. Stai attraverso all'astroplano. Ah, ok, va bene. Questo è un piccolo corno di quello che chiamiamo il collettivo inconscio. Un posto in cui tutte le nostre inconsciose sono collegate. Adesso l'unico mondo inconscioso che puoi entrare è quella. La tua proposta. Ok. Stai attraverso e continueremo. Ma perché rosa? Ma perché rosa? Eh, andiamo. Rasputin, puoi sentiremi? Sì? Sasha? Onde sono? Dentro la tua testa. Che bello! Ma non sono sicuro dove. Dicami, cosa puoi vedere? Perché non mi sembra tanto felice? Ma cos'è tutto sto cosino? Ma... Niente, è un po' tutto... Oh... Oh... Do... Eh? Oh, ok. Oh! Rasputin, sei ok? Che vedete ora? No, no, no... Cose. Cos'era? Salve. E' il bianconiglio! Lo seguiamo nella tana. Non mi sembra bella immaginazione, razza. Cos'è quel coso? Non proprio. Perchè ho l'impressione che non ce la fanno? Ma quello era un coso di un palombaro. Perchè ho l'impressione che non era la mia testa? Eh? Oh, ok. Ok. Ragazzi, abbiamo capito che Raz non è completamente sano di mente. Direi che per oggi abbastanza... Ah, abbastanza. Grazie per aver guardato il video. Spero vi sia piaciuto. Ci si riveda alla prossima. Ciao! Yo, shit.